Episodio 6 del corso di Shopify, oggi vediamo come possiamo creare un prodotto digitale. Poniamo il caso che siete degli artisti digitali e create sticker, quindi adesivi, PDF da colorare, qualsiasi cosa che le persone possono scaricare, stampare, utilizzare sul loro computer, eccetera. Quindi vogliamo utilizzare Shopify ma non vogliamo vendere roba fisica, ma vogliamo vendere roba digitale. Quindi come possiamo fare? È molto semplice, aggiungi prodotto e andiamo a creare il nostro prodotto, chiaramente, e lo chiamiamo prodottino, prodottino disegnato, molto bene. La nostra descrizione loremipsum come al solito, ormai siete con me da 6 video e mi conoscete. Per il contenuto multimediale vado a mettere il mio corso di JavaScript, vendo corsi, ma non vendo il corso, facciamo finta che io stia vendendo queste immagini, non sto vendendo il PDF del mio corso, ok, questo è il mio corso, e il prezzo lo mettiamo al modico prezzo di 24,99, roba vera, eh, non sto inventando niente, non applico le imposte, al momento non le gestiamo, non monitoro la quantità e soprattutto non è un prodotto fisico. Ecco qua, abbiamo appena specificato che questo è un prodotto digitale. I clienti non inseriranno i dettagli di spedizione perché non devi spedire da nessuna parte, scopri come configurare il tuo negozio per i servizi o i prodotti digitali. Se voi aprite, qua vi spiega come fare, nel caso in cui vi doveste dimenticare, qua ci manda a Digital Downloads che è quella che avremmo scaricato a prescindere. Noi però facciamo finta di niente e ci arriviamo con classe, vi faccio vedere. Cominciamo a salvare il nostro prodottino, ecco qua. Andiamo su, qua cerca, selezionate App e adesso scrivete Digital, potreste fare o Digital o Downloads o Digital Downloads. Facciamo solo Digital e ci manda, come vedete, in Risultati per Digital, Digital Downloads. È quello che interessa a noi. Poi vi spiegherò meglio delle App. Adesso non è il momento, semplicemente questo è un tutorial per come creare un prodotto digital. Devo farvelo vedere per forza. Visto che stavo facendo tutti i vari prodotti, non potevo lasciare questo per ultimo dopo aver parlato delle App. Perciò, al momento, ste cose non le conoscete, ne parleremo più avanti. Ma quella che interessa a noi è questa qua, Digital Downloads, gratis e soprattutto gestita da Shopify. Perfetto, quindi facciamo Installa. Vedete, è come un'applicazione da installare sostanzialmente. E noi abbiamo, eccola qua, la nostra applicazione da installare. Facciamo ancora Installa. Siamo nel nostro Shopify, come potete ben notare. E adesso abbiamo la nostra applicazione dei download. Blocchiamola qua in alto perché ci può interessare. E come potete vedere, Digital Downloads ci mostra i prodotti, ok? Quindi non è diverso da questi prodotti, semplicemente li gestiamo da Digital Downloads. Quindi in questo caso vogliamo dirgli, guarda, questo prodotto ha un file associato. E qua dentro vado a trascinare il mio file. Che file vado a trascinare? Vado a trascinare un PDF che ho appena scaricato. Per quanto riguarda SQL, programmazione, non preoccupatevi, roba di database noiosa. Per voi che non programmate, se non programmate è roba noiosa. Abbiamo il nostro PDF. Come potete vedere, lo posso scaricare, riprova, eliminare, ta ta ta, chi se ne frega. Apriamo qua Fulfillment e qui, dobbiamo togliere questo, possiamo andare a specificare alcune impostazioni. Vogliamo che il file venga mandato automaticamente, vogliamo che il file venga mandato manualmente. Di solito una volta che comprano viene mandato automaticamente. E le persone possono scaricarlo infinite volte, nel senso non è che ho comprato, me lo mandi e basta. Poi in caso che l'ho perso, ho formattato il computer, ho perso il mio computer, quello che volete. Torno sul mio Shopify, da dove l'ho comprato e me lo riscarico. Tanto l'ho pagato, posso scaricarlo quante volte voglio. Fate così, salviamo. E adesso possiamo creare un download link. Come vedete possiamo prendere questo link, mandarlo in giro e dire Ehi, questo è il link del prodotto, tipo Ah, mi scusi, ho dimenticato la mail, non l'ho vista, l'ho persa, eccetera. Mi manda il link del prodotto, ecco qua. Ok? Possiamo vedere come admin, nel caso volessimo modificarlo. Ecco qua, siamo tornati esattamente dove eravamo prima. Torniamo indietro e questo è il nostro prodottino. Ma ne vogliamo tornare su Digital Downloads. Mi raccomando, ci deve essere scritto qua in alto Digital Downloads. E come vedete, abbiamo il nostro prodottino. Se ritorniamo sopra, esattamente quello che abbiamo fatto prima. Ok? Qua in alto sono le cose dedicate all'app, vedete? Qui possiamo sbloccare la navigazione oppure modificare l'app. Al momento non ci interessa, lo impareremo più avanti. Quindi questo è il nostro prodotto digitale. Quando poi gli utenti o i clienti andranno a fare l'acquisto, verrà gestito automaticamente da Digital Downloads. Questo è proprio l'esempio di app. Quando vi dicevo che sono cose che possono interessarci o non interessarci, se ci interessano, le aggiungiamo noi. Ok? Facile, semplice e veloce. Nel prossimo video vediamo come creare delle gift card. Ci vediamo tra poco.